Presentato martedì mattina in conferenza stampa a Palazzo Santa Lucia, il piano di riordino della rete ospedaliera messo in campo dalla Giunta Caldoro, annunciata una nuova fase con l'ulteriore sblocco del turnover, finanziamenti per edilizia sanitaria e tecnologie innovative e il potenziamento della rete territoriale. Nello specifico, per ciò che attiene il Salernitano, si prevede la riattivazione dei pronto soccorso di Scafati, Cava dei Terreni e Oliveto Citra, chiusi dal Decreto 49 del 2010 e l'istituzione ex novo di un pronto soccorso a Rocca d'Aspide perché in zona disagiata. A rendere possibile tutto questo, l'aumento dei posti letto di 802 unità rispetto all'esistente. Gli ospedali di Sapri e Vallo della Lucania entrano nella rete neonatale con una deroga al tetto dei 500 parti all'anno in quanto zone disagiate. In programma anche la progettazione di quattro nuove strutture, tra cui, seppure in fase iniziale, l'ospedale della Valle del Sele. Tutto invariato per Polla, che resta presidio di base e sede di pronto soccorso e che dovrebbe però vedere il tanto atteso incremento di personale medico. È un grande provvedimento. Prima si chiudeva, oggi si riaprono gli ospedali che erano stati chiusi e previsti in chiusura nel 2010 e soprattutto prima c'era il blocco del turno, oggi si riassume. Quindi è un grande rilancio, questo è stato possibile farlo con un gran lavoro di serietà, di silenzio nei momenti difficili, ma oggi abbiamo recuperato quasi mille posti letto rispetto a una battaglia che vedeva la campagna ingiustamente penalizzata. Abbiamo recuperato risorse per aver tolto gli sprechi, quindi 230 milioni di euro di avanzo. Quando sono misure concrete e quando si toccano, si vedono, noi non vogliamo fare promesse. Noi facciamo solo cose concrete. La politica deve stare fuori dalla sanità. Il piano è stato inviato lo scorso 24 febbraio al Ministero della Salute. entro il primo aprile ci dovrà essere la pronuncia dell'Agenzia Nazionale per la Sanità. Alla base delle scelte contenute nel piano, l'idea di rete territoriale con gli ospedali divisi per tipologie di assistenza e connessi tra loro. È la riorganizzazione a rete che permette di portare il malato al momento giusto, nel tempo giusto, nell'ospedale giusto. Che cosa cambia? Cambia che aumenta il numero dei posti letto rispondendo agli standard nazionali. La Campania ha guadagnato un numero di posti letto per il suo buon andamento degli anni precedenti e in questa maniera noi riusciamo a riorganizzare gli ospedali secondo che sono le esigenze di ogni singolo territorio.